dei cittadini, dal foro, banche, tavoli, capanne africane dove ci sono i custodi che sono due senegalesi. Quindi l'amore da parte del quartiere, dei cittadini per questo posto, la tutela, la cura, il disinteresse da parte dell'istituzione, fondamentalmente, perché io penso che in qualsiasi altra capitale d'Europa, sia a Berlino, che non lo so, a Amsterdam, o a Cellula, se è successa una cosa così, questo è un concetto che noi abbiamo fatto dopo la vittoria, che adesso diciamo, piano vi racconto, e che l'abbiamo fatto una volta ogni anno, per anni, la canzone è uscita dieci anni fa, questi sono concerti incredibili che abbiamo fatto proprio lì alla riva del lago, in cui raccoglievamo i soldi per sostenere l'apertura, perché è stata praticamente per anni, è stata sostenuta in modo autogestito, è stato un lago autogestito, dopo l'occupazione dei centri sociali abbiamo autogestito un lago per alcuni anni, è stato favoroso, perché intorno al lago si è formata veramente una comunità, cioè una comunità è cresciuta e si è formata di bambini, di ragazzi, di signori, di anziani, che hanno sentito quel posto come loro, e hanno sentito anche che era una speranza, perché poi si è questo, però è un lago che è nato in mezzo, è uscito fuori dal cimento, è uscito fuori in mezzo alle talazze, alle macchine, e ha creato questo sistema, questo sistema, quindi è un lago che ci sta dicendo qualcosa, ci stanno oggi delle scolaresche, professori che magari si è passati per tempo e hanno sentito la canzone, quando vengono di Torino, di Genova, quando vengono a Roma, vanno a vedere San Pietro, Colosseo e poi vanno al lago della Sdia, mi chiedono appunto di andare lì e spiegargli le ragazze, perché? Perché è una cosa, infatti, una qualsiasi amministrazione l'avrebbe valorizzata, cosa che non è successo purtroppo per Roma, nel corso degli anni, anzi, inizialmente, quando noi abbiamo pubblicato questa canzone, ci rispose lo stesso Ignazio Marino, e disse tutto gli eremo l'area, perché? Perché quando uscì, che era il 19 luglio del 2014, praticamente l'8 agosto del 2014 scadeva dei termini, per cui il Comune di Roma avrebbe potuto rendere esecutivo l'esproprio dopo dieci anni che aveva cominciato, non aveva fatto mai niente per rendere esecutivo, fecero un giorno di lavori, era il rendere esecutivo, destinato 40.000 euro per fare dei lavori, perché comunque ha bisogno di tanta manutenzione, di tanti lavori, di cui 40.000 euro poi sono stati stornati per i parcheggi del Giubileo della Misericordia, e quindi per anni e anni è stato veramente abbandonato questo posto, se non fosse appunto per l'amore, per l'amore di tutti i miei 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 stavano intorno. Che vi devo dire? Io quando ho cominciato a pensare a come l'arte, come una canzone potesse raccontare questa storia, io tra l'altro devo confesso, ma ne sono abbastanza... penso che il successo della canzone è dovuto anche a questo, che non conoscevo benissimo tutto quanto, non conoscevo bene tutto se avessi conosciuto tutto sarei forse rimasto intossicato da troppe informazioni non so se sarei riuscito a fare questa canzone invece non la conoscevo tanto bene la storia, sapevo che c'era che era lì vicino a la Sadia perché era il 100 cello e sapevo che stava lì ma non c'era mai entrato, non l'avevo mai vista poche persone avevano visto il lago della Smia prima che ci fosse una canzone e quando mi hanno chiesto di farlo appunto io sono andato a vedere dall'alto il lago che si poteva intravedere attraverso la vigilazione sono andato a sentire dei video in cui c'erano dei signori e dei compagni del territorio che parlavano del lago e tra le altre cose dicevano che lì c'era l'acqua pulicante l'acqua pulicante quando io ho sentito questa cosa mi si illumina la mente perché ho detto l'acqua pulicante ecco dove sta l'acqua pulicante cioè ma per quanti anni siamo passati immagino anche voi a via dell'acqua pulicante pensando ma che è sta l'acqua pulicante? no io da quando sono piccolo dico ma che è via dell'acqua pulicante? che è via della Maranella? cioè quando ho capito che lì c'era l'acqua pulicante ho detto no io questa è una parola chiave che di momento assolutamente è una canzone perché cioè tutti i romani sanno che c'è via dell'acqua pulicante ma se ti dici guarda l'acqua pulicante ha dato vita a un lago cioè no non potete prosciugarlo nel momento in cui dici una canzone del genere hai vinto e quindi ho detto l'acqua pulicante ci deve stare poi chiaramente io volevo fare una canzone che raccontasse della bellezza del lago della bellezza che c'è infatti parlo della metropoli meravigliosa perché uno spesso anche nel rap c'è questa cosa di dire quanto siamo angosciati soffocati tutto fa schifo invece no c'è meraviglioso però allo stesso tempo bisogna essere pure aggressivi no allora voluto comunque essere e dire subito chi era tra virgolette il cattivo cioè il palazzinaro quindi nominarlo anche palazzinaro anche se il grande Antonello Soggia che indimenticabile che purtroppo ci ha lasciato un po' di anni fa un grande archivetto urbanista che cercava di raccontarci la città mi diceva sempre guarda che non esiste più il palazzinaro puro perché oggi il palazzinaro quello che costruisce le case è anche un editore di giornale è anche un politico cioè quindi se ti dici solo palazzinaro però io voglio dire proprio palazzinaro perché poi tanti cioè chi è che ci costruisce questi palazzini Roma è meravigliosa il centro di Roma è una meraviglia e noi siamo qui nelle periferie nella bruttezza di questi palazzi ma chi è che ha il costruito il palazzinaro però se te dici nella canzone palazzina in una canzone se ti dici palazzinaro la gente subito dica oddio mamma mia che panno questo comincia a attaccare questo palazzinaro ma che è allora invece ripetendo la dirima è palazzinaro amaro sei un palazzinaro baro per tutto il male fatto a Roma adesso paticano e già così te la vedi il palazzinaro te lo sei bevuto sei arrivato al palazzinaro senza che manco te ne si è accorto poi c'è un'immagine che tra l'altro è uscita fuori alla fine della canzone inizio non c'era al funerale del tuo centro commerciale perché quello quello che vediamo quello scheletro è il funerale di un centro commerciale è bellissimo non mi immagino il funerale del tuo centro commerciale è bellissimo vedere il nostro lago naturale scava 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 nella notte brava hai trovato l'acqua bullicante l'acqua con le bollicine che è sta acqua bullicante l'acqua con le bollicine e tra l'altro con le bollicine perché arrivano i gas da sottoterra quindi lì c'è anche c'è ci stanno tantissime cose da scoprire lì al lago di Asnia io quando oggi vado nelle scuole a fare il rap e gli chiedo ragazzi voi sapete che abbiamo un lago naturale a Roma uno no mi dicono ma scusa ma che inizio del professore diteglielo voi che c'è un lago naturale a Roma perché non vanno spiegato questa cosa perché se devi studiare geologia non sai che ci sono i gas naturali che ci mettono in connessione con il centro della terra proprio là e formano l'acqua la svalda sotterranea ma quante cose ci stanno da imparare al lago dell'Asnia tantissime e quindi hai trovato l'acqua bullicante e di 10.000 piante l'acqua con le bollicine che scorre sotto le colline come queste rime non ha mai fine scava, scava, scava nella notte calda trovano scava, scava, scava e non se l'aspettavano un lago naturale d'acqua minerale un miracolo nella metropoli meravigliosa lì c'era una fabbrica di finta seta alla viscosa c'era il capitalismo un'area gigantesca ci lavoravano le madri i padri ogni scolaresca perché praticamente lì ci lavoravano 5.000 operaie e quando andavano al lavoro c'era anche la scuola quindi ci portavano i figli c'era proprio un mondo c'era la storia di Roma e tra l'altro tra il basso tra l'avo e il parco c'era tutto un camminamento meraviglioso era un posto meraviglioso quando il palazzinaro ha cominciato a fare il centro commerciale ha sbancato praticamente le due aree le ha separate perché una adesso dove sta l'acqua dovrà essere il piazzale nel centro commerciale e dovrà essere separato da sopra invece ai tempi era tutto collegato perché dove c'era il vecchio centro sociale dove c'è il centro sociale si diaviscosa c'erano praticamente le aree della segreteria della fabbrica quindi lì si passava adesso non si può più passare adesso per andare al lago bisogna passare da Dari Portonacci una strada pericolosa piena di tacchine dove c'era un tunnel tra l'altro un vecchio tunnel dove passava il treno che fa la stazione un tunnel che era bellissimo antico tutto di mattoncini era stato fatto non so penso nell'ottocento era veramente adesso il sindaco l'unica cosa che ha fatto ha rifatto quel tunnel che sembra l'ingresso di Rebibbia tutto bianco di cemento era una cosa veramente desolante che fa capire proprio l'idea i milioni di euro che hanno speso per rifare quella cosa dicendo che era della nostra sicurezza che in parte lo è ma è una cosa che è tolto l'identità a quel posto perché quello era un posto che andava valorizzato con tutti i mattoncini sì sporchi di smoglio ma comunque era meraviglioso adesso ti viene un tuffo al cuore a passare sotto quel tunnel se ci provate a passare se vi capita fateci caso quel tunnel c'è prima che si va pure al cube a discotele per far capire che cosa c'hanno in testa questi amministratori riguardo i loro cittadini l'amore che mettono per fare le cose milioni di euro per devastare un posto dicendo che lo riguodificano e abbandonando l'ago completamente abbandonato da anni ci avrebbero potuto fare appunto tre mila cose dal camminamento da sotto a sopra comunque una metropoli meravigliosa lì c'era una fabbrica di finta seta la discosa c'era il capitanismo lei è gigantesca ci lavoravano le madri i padroni scolareschi ognuno che pensava morte tua vita mia poi ha fallito l'ho tramato ed è arrivato il lago della stia allora io vi dico questa è una canzone adesso vabbè voi siete tutti in una certa età però diciamo che i ragazzi oggi amano il rap amano un rap diverso da come lo facciamo noi adesso il rap che ci sta adesso dura due minuti due minuti e mezzo ogni canzone questa è una canzone dura quattro minuti e mezzo tre strofe ormai non si fanno più le canzone così troppo lungo non ce la fanno la gente a seguire per quattro minuti e mezzo una cosa e invece ed è fatta da tre strofe di cinque quartine cose questa è la quartina in cui poi mi metto io e dico e a me viene da piangere per tutte le magagne per questo lago che non ha intorno le montagne perché a me veramente quando io sono andato su che dovevo scrivere la canzone andavo da su e mi veniva da piangere a pensare alla lotta che aveva fatto la natura e l'aveva fatta aveva fatto sta natura era uscita fuori per vendicare un suo pruso e ci veniva a dire una cosa e quindi mi è da capire per tutte le magagne per questo lago che non era intorno non è intorno al lato di Bolsena ha intorno centomila macchine ognuna dentro al suo problema dopo di che c'è il ritornello di quel grande che è Daniele Coccia che c'è una voce fantastica ed è il muro del canto e tra l'altro io devo dire che quando lui ha fatto il ritornello non c'ero in studio di registrazione perché stavo a Pato facendo un concerto però telefonavo per sapere la canzone era già fatta mancava solo il ritornello e dicevo ad Alessandro che era avanti il batterista dicevo come sta il ritornello ma ha fatto tutto a posto è già chiuso e che dice dicono le parole ma non mi ricordo dicono in mezzo ai mostri di cemento dico in mezzo ai mostri di cemento ma che è sta palla dico ma non è rispingente come palazzinaro cioè nei mostri di cemento ma non c'è non potevo usare qualche parola più bella no non ti preoccupare poi ho sentito è una meraviglia in mezzo ai mostri di cemento l'acqua moriflette il cielo è la natura che combatte sto quartiere meno nero in mezzo ai mostri di cemento il lago è un sogno che sta vera è la natura che resiste stanotte Roma è meno nera veramente una meraviglia di parole e dopo di che la seconda strofa io ho cercato di raccontare i quartieri che stavano intorno al lago che sono dei bellissimi quartieri tipo bella torpigna bella torpigna attara e di tratteggiarli con una rima un po' l'identità che hanno questi quartieri bella torpigna bella torpigna attara bella borgata dove è razzista la sua vara perché sapete che torpigna attara è uno delle punte di inclusione insomma che ci stanno a Roma in cui c'è tra l'altro una scuola come la Pisacane che ha quasi l'80% di ragazzi stranieri stranieri per piccoli insomma che ormai sono italiani che stanno a convivere probabilmente anche se ovviamente ognuno sta per conto suo però comunque insomma uno cerca di cercare quella romaneticia di cui si parla e poi praticamente lì intorno al lago ci sta poi c'è il Pigneto c'è il Casalbertone poi c'è il Predestino Labbicano Predestino Labbicano è proprio la via via predestina dove stanno i palazzoni appunto del palazzinaro che alla fine è quella che c'ha ognuno per il Pignattaro è bella perché è bella c'ha quella cosa là di Vigneto lo sappiamo il Casalbertone è comunque popolare per il Vestino Labbicano che c'ha c'ha i palazzoni cioè alla fine resta quella più sfigata allora amiamo anche per il Vestino Labbicano un po' il tuo mondo se sei con noi adesso alza la tua mamma e tutti alzano la tua mamma l'aria è più dolce da quando è andato il lago non è spuntato col cappello di un mago è il nostro lago uscito da sottoterra è salzato a una guerra nella zona della Maranella dentro il cancello chiuso c'era un abuso avevano cambiato la destinazione d'uso scava 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 nella notte calda trovano la falda in alto la mia banda tutto il quartiere va al cancello per aprire un barco basta con il cancro basta con il cancro porco mondo che uno qual di volta che gli viene una malattia una cosa quanti sembra che è una lezione del Signore che è successo ma ci saranno dei motivi per cui ci vengono queste malattie che è questa società questa città stressata smog inquinamento cose cioè per una volta che c'è un lago ce lo volete togliere per una volta che c'è questa cosa bellissima ce la volete togliere oppure la volete abbandonare poi dopo vi racconto ancora non è finita basta con il cancro noi vogliamo il parco capite questo ingresso sto facendo un lago il costruttore zitto lui faceva il vago succhiava con l'idropa succhiava l'acqua e la buttava nelle fogne andasse tutto in vacca poi è arrivato un acquazzone e non è un segreto si è rotto il collettore e si è riempito di merda il pigneto e questa prima di tutto è una storia cioè che lui praticamente succhiava l'acqua dell'acqua e la buttava nelle fogne per cercare di ritarlo che si è formato questo vago perché non capiva che cosa stava succedendo non aveva capito che c'era l'acqua pulicante là che arrivava dalla falda sottocana che andava a fumetevere c'è stata per certi 50 anni che non poteva fermarla quella ormai andava andava riempito tutto e poi si è riempito di merda il pigneto perché il pigneto è un quartiere bellissimo che piano piano cioè è stato un po' gentrificato insomma sono stati riempiti di locali di cose le storie cioè sono stati mandati via pure gli antichi abitanti se è riempito di merda il pigneto è anche una metafora per cui tutti cioè se è riempito di merda il pigneto da allora il lago ha vinto si è stabilizzato e il lago di tutti non è un lago privato ha invaso il cemento armato e ci ha chiesto aiuto noi l'abbiamo immaginato amato e conosciuto e poi vabbè ci stava basato questo perché noi veramente questo lago siamo cresciuti noi siamo cresciuti come esseri umani come cittadini di un quartiere di una città siamo cresciuti abbiamo imparato ad amarlo di più il nostro territorio io cioè veramente mi rumore perché cioè a un certo punto abbiamo fatto queste feste che quando io ritorno delle volte mi piace tantissimo tornare nei centri sociali a fare concerti pure a Forte Amistina a mezzanotte e mezzo alle tre del mattino con tutti affassionati ma veramente oggi il concetto bello della mia vita è al Lago della Smia alle quattro del pomeriggio con tutti con mia madre con con tutti i bambini con tutte le signore gli anziani i ragazzi cioè questo è è il quartiere la comunità nuova bella che si è formata che si è creata che si è formata con il lago cioè il lago c'è dato la possibilità di crescere come proprio come comunità come persone è anche ha messo in crisi e con le spalle al muro l'amministrazione per cui una volta che è uscita poi questa cosa e devo ammettere Blob l'ha mandata subito subito più un giorno bo Repubblica a quel punto l'ha adottata perché ci stanno comunque dei giornalisti in gamba a Repubblica anche se è quello che è però l'ha adottata cioè ha cominciato a fatto negozi insomma piano piano è diventato talmente di dominio pubblico che loro alla fine l'amministrazione gioca su su che cosa sull'ignoranza gioca sull'ignoranza quindi se i cittadini non sanno di quella cosa ma chi cioè se ne frega prosciugatele e fateci sti 4 40 ceri erano 10 anni che stavano aspettando e stavano quasi di decorrenza termini 8 posti 10 posti se non faceva il proprietario che entrava in possesso della cosa e e invece una volta che è di tutti davanti a cosa ma chiunque qualsiasi amministratore politico non può non può che difendere questo posto nessuno può mettersi contro anche se hai preso milioni di euro magari dal tipo che ti ha detto shh fa finta di niente fa passare tempo fa passare sti 10 anni perché c'è stata una lotta di decante di burocrazia di cose non possono non è quella alla fine quindi è andata adesso è stata è una vittoria la parte del lago la parte dei capannoni nella fabbrica ancora è una battaglia però è ancora in valo purtroppo poi ci sono state pure tanti